Sabato scorso sono partiti saldi estivi a Pescara come nella quasi totalità delle altre città d'Italia. La locale Confcommercio a conclusione di questo primo weekend ha effettuato un sondaggio fra alcuni operatori commerciali per conoscere l'andamento di queste prime vendite a saldo. I risultati per l'associazione, si legge nella nota, sono stati contrastanti. Metà degli intervistati ha registrato una partenza discreta in quanto sabato finalmente c'è stato molto movimento nei propri negozi. L'altra metà registra che i saldi non sono partiti che c'è stato interesse ma nessuno ha comprato. Ovviamente, rileva la Confcommercio, molti di quelli che hanno segnato una partenza discreta tendono a evidenziare che gli ultimi mesi sono stati veramente catastrofici dal punto di vista commerciale e molti operatori confidavano fortemente in un momento di ripresa. Come sempre nella nostra città l'offerta qualitativa si presentava ottima e in grado di conquistare l'utenza anche perché l'inizio saldi con la stagione estiva appena iniziata certamente non è quello che vogliono le attività. In molti chiedono di essere interpellati fra dieci giorni perché si legge ancora nella nota solo allora si potrà vedere se il saldo ha portato l'effetto desiderato e si chiedono se questa partenza positiva continuerà nel prosieguo dei saldi. Tutti gli addetti ai lavori sono consapevoli del fatto che la crisi del commercio non si può risolvere solo con le vendite a prezzi scontati e che l'effetto saldi durerà solo per poche settimane. Quindi presto si tornerà alle vendite normali con le problematiche e le difficoltà che difficilmente si riusciranno a risolvere se non con una decisa inversione di tendenza. La Confcommercio di Pescara fa sapere la stessa organizzazione di categoria seguiterà con cadenza settimanale l'analisi di queste vendite di fine stagione.